C'era dell'incertezza, non eravate convinti di qualcosa, come è andata? Ma guardi, molto semplice, le nostre perplessità, che peraltro ha ribadito il Ministro Giorgetti anche nel fatto verbalizzare al Consiglio dei Ministri, è l'estensione del Super Green Pass anche alle zone bianche. La giustificazione che ho sentito prima del turismo dei Novax, francamente non tiene. Qui bisogna stabilire un principio, se una zona è bianca e non siamo in un stato di emergenza non si capisce perché si debba estendere delle restrizioni. Ricordo che le vaccinazioni stanno andando, sta aumentando sempre di più ogni giorno chi si è vaccinato, quindi per noi era difficile capire perché in zona bianca si dovesse estendere il Green Pass. Poi alla fine prese anche una serie di specificazioni ulteriori, cioè sulla limitata durata temporale la non estensione del Green Pass ai minori di 12 anni, la garanzia che le attività economiche sia in zona gialla e soprattutto in zona arancione potessero continuare ad operare visto la situazione poi abbiamo dato il via libera. Però rimane la perplessità sulla zona bianca. Lei l'ha spiegato molto chiaramente, io volevo aggiungere una cosa, tutte le perplessità, le posizioni differenze, sfumature, ovviamente come si dice hanno diritto di cittadinanza e sono lecite, però la domanda successiva è siccome anche da noi purtroppo i contagi stanno aumentando dice Draghi, insomma lo vediamo, sono sotto controllo, ma pensiamo a cosa sta succedendo intorno a noi un boom di contagi in Francia